Io sono voluta venire a Napoli non a caso, Napoli intanto è una grande capitale del Mediterraneo, Napoli è anche la città più giovane d'Italia, quindi ha una grande risorsa in mano. Ci sono anche chiaramente tanti problemi in questa città, però io ho ricevuto tante lettere veramente di cittadini napolitani, tantissime donne, donne preoccupate per la sorte dei loro figli e per il fatto che questi ragazzi invece di studiare preferiscono la strada. Allora mi sembrava doveroso venire qui in una scuola, lasciatemelo dire, di frontiera, laddove invece le insegnanti sono baluardo di legalità, a dare tutto il mio sostegno a questa scuola che appunto diventa in moltissimi casi unico riferimento per i giovani. Quindi scuole che vanno rafforzate, che vanno sostenute, c'è anche un problema di sicurezza degli edifici, mi hanno detto che quando qui si acquistano computer o strumenti tecnologici purtroppo sono sempre a rischio furti, perché chiaramente non c'è quella sorveglianza di notte e questo consente poi a chi ha purtroppo brutte intenzioni di portare via queste strumentazioni.